Volontari in festa nei giorni scorsi a Songavazzo. Nel servizio le interviste al Sindaco Giuliano Coveglia, nuovo capogruppo degli Alpini Andrea Bianchi, al Presidente dell'Associazione Volontari Italo Brasi, al Consigliere regionale Carlo Saffioti. Sindaco di Songavazzo, chiaramente questa per voi è una giornata importante. Molto importante quando si ringraziano i volontari che prestano la propria opera gratuitamente e con dedizione e impegno per aiutare il prossimo, è senz'altro una giornata importante. È una giornata che va dato atto alle persone che si danno da fare, che escono dalle case, che non sono rintanati nelle quattro mura per guardare solo la televisione, ma prestano anche la propria opera a servizio di chi ha bisogno, da chi necessita particolari cure. Quindi il nostro ringraziamento, non il mio in particolare, ma soprattutto di tutta la collettività, va a questi volontari. Giornata importante oggi? Oggi è una giornata importantissima perché appunto si festeggiano i dieci anni l'Associazione Volontari Songavazzo dove appunto c'è gente che mette a disposizione il proprio tempo libero per dare una mano, per aiutare chi ne ha più bisogno. E noi alpini che siamo i portatori di questi valori abbiamo maggior ragione di essere qui oggi perché dobbiamo essere appunto promotori di queste azioni volontariate. E il nostro cappello un po' ce lo impone. Pietro, oggi viene riconosciuto l'impegno dei volontari? Oggi viene riconosciuto almeno i dieci anni di impegno che abbiamo fatto per la nostra dotazione partendo proprio dalla nostra sede che abbiamo acquistato da Don Lorenzo, della parrocchia, e abbiamo costruito la nostra sede, abbiamo acquistato otto mezzi, grazie a tutti, chi ha dato contributi veramente per realizzare sia la sede sia gli otto mezzi e volontari. Ecco, quelli ci sono perché di fatti qualcuno si è lamentato che ho dato un riconoscimento che non l'hanno meritato secondo loro perché dicono che non li abbiamo mai chiamati. Li chiamo, ho disponibilità qui a Songavazzo perché ci sono anche di Crusone, di San Lorenzo, così che si sono messi a disposizione per poter fare dei viaggi e lavorare, però riusciamo a gestirlo tra di noi intanto. Ho dieci o quince volontari che lo fanno tutti i giorni, ma veramente a qualsiasi orario. Sono contentissimo, io ringrazio appunto tutti i collaboratori e i benefattori perché abbiamo bisogno sempre di tutti e abbiamo parecchi contributi, non ci lamentiamo. Un grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo anno. Caro Soffiotti, anche la Regione riconosce l'impegno di questi volontari. Il Consiglio regionale ha patrocinato e supportato questa straordinaria iniziativa dei gruppi volontari, degli alpini, dei donatori di sangue e del gruppo volontario di Songavazzi che hanno preso questa utilissima iniziativa di trasportare pazienti e persone bisognose di esami, di ricoveri nelle strutture sanitarie. Noi abbiamo ottime strutture sanitarie, bravi medici, ma deve esserci anche chi trasporta le persone che hanno bisogno quando hanno bisogno. È un'azione utilissima, utile alle istituzioni che non riescono, utile alla comunità e il volontariato è poi quella straordinaria caratteristica soprattutto della nostra provincia che fa bene non solo alla società ma anche a chi lo pratica.